Buongiorno da WTV News. Oggi 29 marzo è San Beato Bertoldo. Ogni 29 marzo si celebra la giornata mondiale del pianoforte. È una ricorrenza che non ha una data fissa ma si celebra l'ottantottesimo giorno dell'anno esattamente come sono i tassi di un pianoforte professionale. Negli anni disestivi si celebra quindi il 28 marzo. Il perché si tratti di una ricorrenza mondiale a molteplici ragioni. Il pianoforte è lo strumento più completo, riesce da solo a suonare ciò che suonerebbe un'intera orchestra, indispensabile a tutti i musicisti. L'uso di questo strumento non riguarda solo i pianisti ma anche i compositori, i costruttori di pianoforti, accordatori, i professionisti nel trasloco di pianoforti e soprattutto gli ascoltatori.